Ben ritrovati ed un nuovo appuntamento con Procar Automobili in corso potenza 194 a Torino. Partiamo subito con una Mercedes-Benz GLK 220 CDI Sport 4Matic, navigatore pelle dell'anno 2010, di colore nero, full optional e il suo costo 22.700 euro. Passiamo in casa Ford, una Ford Grand C-Max 1.6 TDI 115 CV plus 7 posti dell'anno 2012, il suo prezzo 13.400 euro. Proseguiamo in casa Mazda, una CX-7 2002 CD Sport Tourer 4x4, grigia full optional, fatturabile dell'anno 2011, il suo costo 19.900 euro. Mini Cooper D Countryman, all4, pelle, tetto, navigatore, anno 2011, la nostra richiesta 18.900 euro. E passiamo in casa Toyota, una Toyota IQ Multidrive 68 CV Sol dell'anno 2010, full optional, fatturabile, il suo prezzo 7.400 euro. Audi A3 2000 TDI Sportback S-Line del 2009, full optional, fatturabile, il suo costo 11.900 euro. E torniamo in casa Mercedes per una Mercedes-Benz B180 New CDI Executive del 2012, full optional, fatturabile, proposta a soli 19.900 euro. E sempre in casa Mercedes, un'altra Mercedes-Benz C200 CDI Station Wagon con navigatore, full optional, fatturabile, dell'anno 2010, a soli 13.900 euro. Passiamo in casa Fiat, una Fiat 500 1.2 Cabrio Lounge del 2010, full optional, fatturabile, il suo prezzo 9.900 euro. Peugeot 5.800 1.6 16 valvole HDI Tecno 110 CV, 7 posti, del 2010, full optional, fatturabile, a soli 11.900 euro. E passiamo in casa Renault, una Renault Scenic 2000 DCI Luxe Pro Active 7 posti Tiptronic del 2010, full optional, fatturabile, a soli 14.900 euro. In casa BMW troviamo una BMW X1 X-Drive 1.8 D attiva, con navigatore, full optional, fatturabile, dell'anno 2010, grigio scuro, proposta a 19.900 euro. Volvo V60 2000 D3 Geartronic, più navigatore, full optional, fatturabile, dell'anno 2011, proposta a soli 17.900 euro. Passiamo in casa BMW, una BMW 318 D Touring, 143 CV, Tiptronic, dell'anno 2011, full optional, fatturabile, con l'orantracite, il suo prezzo 12.900 euro. Ford, Ford Focus 1.6 TDCI Titanium Station Wagon, 115 CV, dell'anno 2012, con full optional, fatturabile, a soli 12.400 euro. Passiamo in casa Volkswagen, Golf 1.4 TSI, 160 CV, Highline DSG, del 2010, full optional, fatturabile, a 12.400 euro. E terminiamo in casa BMW, una BMW 320 D Luxury Station Wagon Tiptronic, dell'anno 2013, full optional, fatturabile, attenzione, il prezzo, 27.400 euro. Tutto questo e molto di più da Procar Automobili, vi aspettiamo in Corso Potenza 194 a Torino.